L'alimentazione può supportare la terapia medica nei pazienti con dermatite atopica perché può indicare i cibi che possono esplicitare alcuni sintomi. Le faccio un esempio, pomodori che sono sicuramente una fosforgente di antiossidanti, così come le melanzane, sono comunque cibi di stamina liberatori, che quindi in soggetti con dermatite atopica, affetti da prurito, da sintomatologia pruriginosa, possono essere se consumati in quantità eccessive un motivo di esplicitazione maggiore dei sintomi. La possibilità invece di un'alimentazione equilibrata con scarso rilascio di stamina, con un giusto equilibrio tra carboidrati, proteine, grassi e soprattutto ricca di acidi, grassi insaturi, è quello che ci consente, e di vitamine, è quello che ci consente probabilmente anche di aiutare la terapia medica. Noi dobbiamo ridurre lo stato infiammatorio del paziente, introdurre cibi non infiammatori, non di pro-infiammazione, può essere un ausilio in più di affiancamento alla terapia medica. Il paziente ama molto non pensare a cosa deve preparare, cosa gli fa bene e cosa gli fa male. Il nutrizionista deve, come noi, d'altra parte noi dermatologi, quando affrontiamo il problema della dermatite atopica, capire la vita relazionale del paziente, il vissuto del paziente, la contestualizzazione, se in una vita familiare, se in una vita da single, e cercare di proporre dei piani dietetici, nutrizionali, che vadano incontro alle loro esigenze e soprattutto che possano quindi amplificare la risposta alla terapia medica. Che significa dare una rete, una rete di supporto a un paziente che ha una patologia cutanea cronica e che quindi non risolverà il suo problema solo in quella settimana attraverso una terapia atopica o sistemica, ma che necessita di una rete di protezione a lungo termine per un'efficacia della terapia a lungo termine. La possibilità quindi di avere un nutrizionista che possa seguire il paziente è molto ben accettata dai nostri pazienti e noi nella nostra equippa multidisciplinare della Federico II sono già tre anni che abbiamo la figura del nutrizionista come consultazione all'interno di un percorso, un percorso di corretto inquadramento diagnostico-terapeutico per i pazienti affetti da malattie croniche infiammatorie cutane.